Non si vive solo dieco piazzole a Bassano e la minoranza lo sa bene al punto che l'ex sindaco Riccardo Poletto prova a riportare la discussione sugli altri grandi temi cittadini che dopo cinque anni di quasi totale immobilismo attendono speranzosi proprio come i cittadini. Partiamo dalla questione teatro. Che il teatro cittadino sia una priorità mi trova, ci trova assolutamente d'accordo e mi fa anche piacere sapere che il sindaco e la sua giunta hanno raccolto una mia proposta cioè di allargare il ventaglio delle possibilità, delle opportunità e aggiungere anche una quarta ipotesi oltre a teatro Astra, oltre a un nuovo teatro presso le piazze o a quello presso l'ex Santa Chiara cioè l'ipotesi di ristrutturare la sala da ponte. Fin qui tutto bene ma Poletto ammonisce. Francamente che a inizio mandato dopo soltanto tre mesi si dica già attenzione le risorse saranno molto limitate quindi riusciremo a fare soltanto questa grande opera mi pare davvero un eccesso di realismo. Però ci sono alcune emergenze, l'ex Polo Santa Chiara insomma quella zona lì ex caserma Cimbele Ferrari che non può rimanere così e quindi dico perché non pensare a una progettualità molto meno onerosa dal punto di vista economico. So che il quartiere centro storico ha espresso delle visioni, delle progettualità e se ne possono aggiungere anche delle altre. C'è il Mazzini, il Mazzini non può rimanere chiuso altri cinque anni. E se da una parte è in arrivo una stretta per i fondi alle amministrazioni pubbliche Poletto sottolinea che Mi auguro che il sindaco che ha avuto 14 anni di esperienza in regione abbia le capacità, i canali, le competenze per fare un'operazione di raccolta fondi molto vasta e possa individuare risorse non solo per il creato ma anche per altre necessità, in modo particolare le due che ho citato.